Ciao a tutti, chi vi parla è Roberta Cornero. Questo video è stato realizzato per festeggiare i vent'anni di attività di un'azienda che rappresenta un'eccellenza per la nostra regione. Vi sto parlando dell'Azura Management, un'azienda leader per il settore dello spettacolo. Oggi mi trovo a Chiusano di San Domenico, in provincia di Avellino, e questa sera avrò con me il comitato che da anni si impegna a festeggiare Sant'Antonio e che inoltre dà tanta fiducia all'Azura Management, la quale si occupa di organizzare spettacoli di piazza. Ho il piacere adesso di invitare al mio fianco il comitato. Che piacere per me, salve. Buonasera, salve. Buonasera. Bene, vi fate un piacere per me avervi qui. Vorrei chiedere al più coraggioso Salvatore un pensiero per l'Azura Management. Allora, grazie anzitutto per il vostro invito e partecipiamo con piacere a questa vostra iniziativa e diciamo anche delle parole per conto nostro al comitato e alla festa di San Domenico, in quale noi dal lontano 1984, qui del 1984, sono oltre trentenni, che organizziamo questa festa in nome di Sant'Antonio. Giustamente per la devozione di tutta la popolazione. Non mi resta che ringraziare anzitutto il nostro responsabile e presidente del russo Gerardo, che fa parte del nostro comitato Sant'Antonio, e Rizzo Giacomo, che fa parte della festa di San Domenico, che organizza sempre in collaborazione con il comitato Sant'Antonio. Non mi resta ancora inoltre ringraziare il nostro parro, mi scuso se non l'ho ringraziato prima, donatore Romano, che... Buonasera a lei. Buonasera. 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 E ringraziare il nostro Giovanni, il nostro, diciamo, amico, perché da oltre parecchi anni e non dico quanti, ci organizza gli spettacoli nella nostra festa. Non mi resta veramente di ringraziare l'Azzurra che ci porta a questa vostra iniziativa, il nostro festa. Grazie. Bene, questo affetto non può che meritare un premio, quindi io vado a chiamare il titolare dell'Azzurra Management, Giovanni Brignola. Buonasera a tutti. Buonasera ai nostri amici. Buonasera. Buonasera. E a questo punto non ci resta che darvi un dono. Abbiamo pensato di fare una pergamena per gli amici speciali come voi e ve la leggo. È con immenso piacere che festeggiamo i nostri primi vent'anni di attività con il nostro partner, Comitato Festa di Chiusano San Domenico, in onore di Sant'Antonio, il Presidente del Comitato. Grazie. Bene, ma per essere una vera festa non può che mancare la torta e la foto di gruppo. Azzurra Management, vent'anni... Vincente e felice!